Centrodestra unito, centrodestra che in questo momento rappresenta la reale alternativa al mal governo del Partito Democratico. Posso dire con soddisfazione che poco tempo fa, tra i primi, disse che la Lega aveva la forza di presentare una propria lista e di poter essere vincente insieme con il centrodestra su candidati credibili. Questo è Roberto Martino, questo è Andrea Tata, sono persone che hanno fatto la fortuna del nostro territorio, nelle loro professioni e continueranno a farlo, a mettersi a disposizione degli altri. Lega di territorio, coalizione di centrodestra unita, compatta su valori e su programmi certi. Quando è presente il centrodestra unito, ultimamente in Toscana si vince e noi siamo certi di poter vincere anche in Bazzardo.